Eugenio Annicelli, Presidente dell'Associazione Quarto Giovani, incontra per l'ennesima volta la Commissione straordinaria del Comune di Quarto. Due forse gli argomenti più importanti, l'acqua e il PIP. Cominciamo a parlare con la situazione dell'acqua. È stato un incontro estremamente proficuo, ovviamente si è svolto con la presenza dei responsabili dei servizi del Comune di Quarto e ovviamente stiamo monitorando, come abbiamo promesso ai cittadini di Quarto, in che modo si sta indirizzando poi l'affidamento di questo servizio. Il Commissario è stato estremamente esaustivo dicendo che tutta la procedura per il momento è stata affidata ad un organo preposto. Attualmente stanno andando avanti con delle gare a tempo per cercare di tamponare l'emergenza. Noi ovviamente abbiamo incalzato cercando di compulsare, sollecitare l'amministrazione comunale affinché venisse posto un rimedio definitivo anche a tutto quello che poi ha causato questo grosso disastro anche di natura economica nell'amministrazione comunale che sono le grosse perdite d'acqua che sono presenti sul territorio, gli allacci abusivi e gli insoluti che continuano quindi ad essere presenti nel nostro territorio. A proposito degli insoluti della perdita della rete idrica, avete avuto delle risposte concrete? Sì, ovviamente si sta cercando di inserire in questo affidamento anche la risoluzione di questi problemi che rientreranno quindi nella manutenzione dell'intera rete idrica. Presidente, oltre che di acqua avete parlato di PIP, piano insediamento produttivo. E' pare che alla Regione Campania ci siano dei fondi disponibili per realizzare delle infrastrutture, ma è il Comune che deve anche muoversi in questo senso. Sì, in realtà noi come associazione di Quarto Giovane stiamo portando avanti questa azione come abbiamo anticipato in passato. Abbiamo compulsato la Regione Campania affinché venissero sbloccate e inserite nella delibera di accelerazione della spesa anche il progetto della realizzazione dell'infrastrutturazione dell'area PIP del Comune di Quarto. E questo perché noi crediamo fortemente nella rinascita, attraverso la legalità, ma dell'intero sistema produttivo quartese. Quindi la realizzazione dell'area PIP consentirà un incremento in termini di produzione, di produttività, di posti di lavoro. E questo è un elemento fondamentale che deve contraddistinguere l'intera pianificazione del territorio di Quarto. C'è la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi. E in funzione di questo puoi prevedere una crescita demografica, o non, ma che possa essere comunque sostenibile. Non basare la crescita del territorio solo ed esclusivamente sulla vocazione edilizia, perché si rischia il crollo dell'intero sistema economico, come purtroppo sta avvenendo con maggiore enfasi nella città di Quarto.